Sicuramente un mind changer deve essere una persona che decide di mettersi sempre in gioco, di provare a fare nuove esperienze e di rimettere in discussione a se stesso, per poter trovare un equilibrio nuovo all'interno di un contesto che cambia. Secondo me le persone intorno a un mind changer sono quelle che ti dicono magari è una persona travolgente che non è tanto per le cose che fa ma per quante persone coinvolge in quello che stanno facendo. Dovrebbe avere molta creatività, molta fantasia e voglia di cambiare le cose sia all'interno di se stesso che all'interno degli altri. Allora, secondo me un mind changer dovrebbe essere ricco di speranza perché altrimenti il futuro diventa difficile da immaginare. non dovrebbe avere paura di sperimentare e dovrebbe essere disposto a mettersi in discussione. Questi tre elementi possono generare cambiamenti positivi e duratori per il futuro.